Dal 10 al 16 ottobre si terrà la settimana nazionale della protezione civile, tanti gli incontri a livello centrale, tanti a livello territoriale, parleremo di prevenzione, di gestione dell'emergenza, di volontariato, di scienza, di impresa, tanti temi che affronteremo insieme. Luigi, cosa accadrà il 10? Nella stazione centrale di Brescia ci sarà il treno sanitario, è un treno allestito per il trasporto di feriti in caso di grandi catastrofi ed è una collaborazione che nasce tra il Dipartimento della protezione civile, la Regione Lombardia, in particolare l'Agenzia regionale per l'emergenza e urgenza e il gruppo Ferrovie dello Stato. La cittadinanza a partire dalle 10 la potrà visitare. Bello, molto bello. Noi invece Fabrizio, il 12 saremo qui a Roma con dei tavoli di lavoro per costruire l'osservatorio nazionale delle buone pratiche di protezione civile. È un'intuizione che abbiamo avuto con il codice e nasce da un'esigenza, provare a mettere a sistema tra tutte le componenti e strutture operative del nostro servizio nazionale ciò che si riesce a fare in termini di efficacia nei vari settori che riguardano il ciclo del rischio. Sarà un confronto, un dibattito aperto con le regioni, con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e speriamo di portare qualcosa di utile per la costruzione dell'osservatorio che verrà. Molto interessante l'osservatorio delle buone pratiche, una nuova iniziativa. Mauro, il 13? Incontreremo la nostra comunità scientifica, la Commissione Grandi Rischi, i centri di competenza, per discutere di tematiche molto attuali a livello anche internazionale ed europeo, ossia la dimensione multirischio nelle attività di protezione civile. Stiamo parlando sia della prevenzione sia della gestione dell'emergenza. Purtroppo, proprio in questi ultimi tempi, nell'ultimo anno e mezzo, ci siamo confrontati col Covid, ma anche con altri eventi, altre emergenze che abbiamo dovuto gestire nella contemporaneità. Questo multirischio si esplica sia attraverso situazioni di quasi casuale contemporaneità, sia in situazioni di rapporto causa-effetto tra un evento e un altro provocato. Avremo anche confronto con le attività produttive. Il giorno 14 a Benevento ragioneremo insieme a Confindustria. Ricorderete nel 2015 l'alluvione che ha colpito quel territorio con una grande impresa che ha perso produttività per un periodo importante di tempo. E il giorno 15 invece ad Amatrice Accumuli ci confronteremo con i colleghi che lavorano nell'agricoltura, elemento sostanziale per il nostro paese. Titti, come chiudiamo? Chiudiamo con il fiore all'occhiello del Servizio Nazionale della Protezione Civile, con il nostro volontariato. Un volontariato che siamo abituati a vedere in emergenza con le divise di tanti colori sui scenari critici, quelli operativi di un terremoto, di frane, di alluvioni e che invece discuterà con noi e ci farà vedere, soprattutto avremo una diretta streaming con tanti collegamenti dal territorio, ci farà vedere come opera ogni giorno invece sul campo della prevenzione, in particolare sulla pianificazione dell'emergenza, che è un settore tutto nuovo per il volontariato dove veramente ci auguriamo di poter costruire nel prossimo futuro qualcosa di utile per l'intero sistema. Bene, allora buona settimana della Protezione Civile a tutti, seguiteci sul nostro sito e sui nostri social.